Si chiama Art & Science, un progetto dedicato alla bellezza dei capelli studiato e realizzato da Tony Pellegrino e adesso nel cuore fashion della Puglia grazie all'impegno di Salvo Binetti. Nasce prima Bari e adesso a Molfetta, una realtà rivolta alla donna a cuore della nostra società. Realizziamo un po' il sogno, quindi entriamo anche nella mia città dove sono nato e ci tenevo assolutamente a portare il nome di questo brand insieme a Tony in questa bellissima città che lo meritava. Tony, che cosa sta cambiando nel mondo dell'hairstyle? Una consapevolezza, una conoscenza e soprattutto una grande coscienza del reale valore della bellezza che è fatta di elementi semplici e noi amiamo proprio sviscerarli. Un fatto di armonia, equilibrio e proporzioni e quindi il gusto e la bellezza non è quello nostro dei parrucchieri ma delle nostre ospiti e dei nostri ospiti. Un impegno importante è quello di Salvo Binetti che si alterna tra il lavoro di air stylist e quello di art director nei backstage di shooting, sfilate ed eventi a carattere nazionale. Tenace e vulcanico, Binetti si è avvicinato al mondo della moda e della bellezza giovanissimo. La sua prima esperienza lavorativa nel campo dell'hairstyle è stata proprio a Molfetta e questa nuova avventura ha il sapore del ritorno a casa. Cosa rappresenta l'hairstylist per la donna oggi? Come diceva Toni, la vera bellezza, che non è solo quella esterna ma che è anche quella interiore, quindi attraverso il nostro lavoro riusciamo a rendere felici le nostre ospiti in salone e lo facciamo consapevolmente proprio per arrivare al risultato. Sotto la direzione di Toni Pellegrino Salvo è entrato anche nei più importanti team creativi. Si può far felice una donna attraverso un'acconciatura, un colore? Si può far felice una donna attraverso il nostro ascolto, della nostra conoscenza, quindi bisogna studiare e attraverso il mettersi a disposizione con il nostro chiaramente lavoro per coronare la sua bellezza. All'evento hanno partecipato importanti personaggi della televisione del cinema italiano, come l'attrice Ivana Lutito, star del film di Checco Zalone e della serie TV Gomorra. Che cosa pensi delle nostre eccellenze, della nostra Puglia? Sento molto la mancanza dei talenti forti che ci sono qua in Puglia non potendoci vivere più perché vivo a Roma, però ogni volta che ho bisogno di qualcosa che abbia un'impronta artigianale di alta qualità so dove venire. E Salvo è sicuramente Salvo Benetti, è un'istituzione, per me è un grande punto di riferimento e anche un amico è stato il mio parrocchiere anche per il mio matrimonio, quindi insomma ci tenevo ad essere qui in questa giornata. Tu sei riconosciuta dal grande pubblico come una star di una fiction ormai famosissima che è Gomorra. Sì, Gomorra sicuramente è la serie che ha avuto più successo negli ultimi anni perché poi ha avuto un riscontro internazionale, adesso siamo alla quarta stagione, stiamo ancora finendo nelle riprese e poi insomma verso marzo-aprile dovrebbe andare in onda la quarta stagione. Hai lavorato anche con Checco Zalone, hai fatto dei film che ci sono diventati ormai un cult. Sì, 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 agli inizi ho iniziato con le serie tv, con un film per il cinema di Carlo Lizzani e poi c'è stato anche l'incontro con Luca Medici, Checco Zalone, un'esperienza meravigliosa che porto nel cuore, è una persona stupenda a cui voglio tanto bene ed è un'esperienza alla quale sono molto legata. Lifestylist per la donna che importanza ha? Direi che è fondamentale perché i capelli di una donna raccontano tante cose, i suoi umori, i suoi desideri, i suoi sogni, in che periodo, proprio in che momento di vita si trova, quando voglia di un grande cambiamento, la prima cosa che fa si va a tagliare i capelli, quando voglia di una coccola va dal parrucchiere, quindi insomma è un punto di riferimento fondamentale. Io spesso sono condizionata dai lavori che faccio ad avere un determinato tipo di capello, un determinato taglio, però appena sono svincolata dal set vado da salvo e gli faccio compiere le sue magie. La bloggera Elisa Dospina, famosa per aver incarnato il simbolo di modella curva italiana. Le dole sono belle in tutte le taglie, in tutte le forme, poi insomma con un buon parrucchiere tutto aiuta. L'estetica conta una percentuale veramente molto piccola, se poi è come un bel libro, se la copertina è bella e poi il contenuto è vuoto, non ce ne facciamo nulla, quindi anche quando vado nelle scuole a parlare con i ragazzi, invito sempre loro a trovare un talento, comunque sia a costruire un qualcosa di più duraturo, perché poi la bellezza è un po' effimera. Mio padre è pugliese e salentino, quindi io ci passo circa due mesi l'anno qui da quando sono piccolissima, è quasi più la mia regione, più del Veneto, perché mi sento molto terroncella dentro, ecco. E Craig Warwick, il sensitivo, che parla con gli angeli. Craig, hai portato gli angeli anche qui a Molfetta? Adesso sono contentissimo di essere qui di nuovo, anche qui per Salvo, perché è una festa bellissima per la gente e tu la sai dove c'è gente, c'è angeli. La donna oggi vuole sentirsi bella, vuole sentirsi realizzata, vuole sentirsi completa, come si può arricchire l'animo di una donna? Non solo la donna, anche gli uomini dico questo, però la bellezza è dentro, l'animo. Se tu credi in successo, se tu senti bella dentro, sei bella anche fuori. E poi tu la sai, quando tu fai chippelli, dopo tu senti mille d'ordine, no? Una cosa, energia positiva, sembra. Grazie a tutti.